quando lo firmi che lo lasci rire torna indietro a prenderlo è proprio il pattino da cambiare no è una 21 è anche storto per quello che si è mangiato bisogna raddrizzarlo quel pattino qua ho detto al Chico di venire a prendere la moto il Chico ormai fa più cazzo c'è in mente altra cosa ma adesso è proprio in bigol e rendila bene che il trema che c'è il Pakistan la faccio io bravo bisogna dirti tutto porca miseria quando smonti l'apriglia bravo ce l'ha fatta vediamo se tira giù la candela poi dobbiamo tenere per forza il motorista perché non è cazzo